Andiamo a lavorare naso, labiali e zigomi. Questo è un allenamento perfetto per aiutarci innanzitutto i nasolabiali. Prendiamo due archetti o facciamo due mezzalune con le nostre braccia che sollevano zigomo e trattengono i nasolabiali verso su. Dopodiché io comincio a soffiare in avanti sempre questo movimento di mettere in tensione da una parte e poi trainare dall'altra direzione con i muscoli della faccia. Apro la bocca, metto in tensione con le mani sotto lo zigomo e sotto il mento, ok, proprio metto in tensione la mia pelle e comincio a soffiare una candela immaginaria per togliere, diciamo, una candela immaginaria per togliere gli anni dalla nostra torta del compleanno. Continuiamo, la facciamo una terza volta. metto in tensione i nasolabiali, tiro indietro, soffio in avanti e sentirai l'attenzione su, proprio su tutta la zona che ci interessa. Questo è un esercizio pazzesco. Infatti, ripetiamolo. Apro la bocca, appoggio le mani e comincio a sollevare leggermente sotto lo zigomo, soffiando in avanti. Una bella puntata oggi, ragazzi, sono super gasata perché mi piace quando noi possiamo fare questi esercizi a casa nostra che ci permettono di avere grandi risultati e poi senza bisturi, perché veramente si può portare avanti con la bellezza, avanti con la forma fisica, dandoci piccoli trucchetti, no? L'integrazione, le creme e i tools, i beauty tools. Non dimenticate anche il derma roller. Dopo che abbiamo fatto il nostro face gym, passare una derma roller e tu puoi togliere letteralmente anni dalla faccia. Di nuovo facciamo la terza volta. Apriamo la bocca. Allunghiamo proprio la tensione del nostro naso labiale. soffiamo in avanti e continuiamo a portare proprio i nostri muscoli in avanti. Poi andiamo di cambiare. Facciamo un forced smile. Così, forced smile. Io tiro indietro l'altezza del zigomo e permetto proprio di tonificare facendo i denti stretti, allargo e accorcio il sorriso. Aiuto proprio i muscoli della faccia a lavorare perché stringo i denti, tiro e allungo, tiro e allungo, tiro e allungo, bravi, continui. Poi la vedrai che convolge anche i muscoli del collo, ok? E continuiamo di fare questo esercizio anche senza tirare con le mani. Questa è una cosa eccellente che ci permette proprio di lavorare la zona delle naso labiali e anche i muscoli dello zigomo. Continuiamo. Pochi secondi. E ripetiamo questo esercizio. Prima con le mani che solevo indietro le muscoli all'altezza dello zigomo e dopodiché faccio con il sorriso forzato, allargo e accorcio proprio le labbra. Questo mi aiuta con le codici a barra sopra le labbra, naso labiali, mi aiuta lo zigomo, mi sta allenando assolutamente tutti. Pochi secondi ancora, tiro e stringo, tiro e stringo, 20 stretti. Relax. Se cominciate a sentire un po' di tensione indietro la nuca, potrete anche massaggiarvi con la nuca, continuando a tenere questa posizione proprio di tensione per tutta la zona del naso labiale e lo zigomo. Ti ho detto che è un allenamento, una puntata pazzesca. Allora, naso labiale, di nuovo, io metto, cioè proprio tiro in su, sempre lo stesso esercizio, però da una posizione diversa per le mani. Le mani che tirano leggermente applicano una pressione verso alto e verso fuori e poi muovo la bocca per soffiare la nostra candela, sempre quella immaginario, così dirò ciao, ciao, stiamo mandandoli via gli anni, le rughe, tutto sta scappando via e noi stiamo lavorando proprio sui muscoli della faccia per tonificare la faccia e farla sembrare sempre più, diciamo, fresca. Continuiamo, lo facciamo ancora una volta. Questo è un esercizio proprio per lo zigomo. Senterai come lo zigomo si attiva, come i nasi labiali si attivano e poi ricominciamo di fare questo esercizio. Questo è un esercizio potente, ecco perché continuiamo a, proprio a continuarlo, a farlo lavorare. E l'altra cosa che dovete ricordare è che quando andiamo a parlare della faccia dobbiamo attaccare su diversi fronti. Dobbiamo dormire bene, integrare bene, usare la cosmesi che ci può aiutare a tonificare la pelle e poi lavorare sui muscoli. Dormire bene, possiamo anche mettere una maschera che ci aiuta a bendare gli occhi e quando bendiamo questi occhi di notte aiutiamo ad evitare che ci entrino nella luce molesta. La luce molesta può arrivare da una tapparella leggermente aperta o da una luce dal nostro televisore o altrimenti dal nostro smartphone e questo ti riduce la qualità del sonno e ti riduce la qualità della produzione notturna di collagene. Così, se noi vogliamo avere il massimo della nostra face jam, dobbiamo anche pensare della qualità del sonno che può essere migliorata con la maschera, con un tessuto attivo. Possiamo pensare di integrare con un integratore a base di acido ialuronico e collagene e poi possiamo pensare di finire il nostro allenamento e poi fare un bel massaggio perché alla fine di questo allenamento faremo un massaggio super super rilassante e per farlo ci servirà un crema o un olio emolliente. Io adoro l'olio di rosa moschetta perché è ricco di retinolo A e vitamine C che sono tensiatori per eccellenza per la pelle. Così, alleniamo i muscoli, dopodiché andremo a stimolare la produzione, la tonicità della pelle con un massaggio. Continuiamo a soffiare tonificando questo zigomi, ragazzi. Continuiamo a 3, 2, 1 e cambiamo esercizio. Allora, io porto la lingua dietro i miei denti, proprio la curva della lingua, la porto indietro e poi applica una pressione con la lingua che viene pressata in avanti, i pollici sotto il mento, i pollici sotto il mento che stanno proprio spingendo in alto, la lingua che spinge contro i denti e ti sentirai una contrazione isometrica per tutta la faccia. Lo sentirai proprio l'allenamento anche sulla nuca. Perché quando andiamo a tonificare i muscoli della faccia, spesso, volentieri, tutti i muscoli del cranio vengono convolti e ti potresti sentire della tensione. Se senti la tensione, porti la mano dietro la nuca, cominci a massaggiarti per liberare. E questo è anche un massaggio che fa benissimo per le muscole della faccia stessa perché riduce la tensione, quella nociva, anche sui muscoli facciali, sullo zigomo e anche sulla mascella. Ok, ritorniamo a fare questo esercizio. Porto la lingua in avanti, la tiro indietro, la posizione dietro i denti, i pollici sollevano proprio il mento e spingo leggermente in avanti il mento. Così il mento viene leggermente in avanti, sto spingendo in su. È tutta una contrazione, la lingua è una contrazione, le dita della pressione del mio pollice è una contrazione e porto il mento in avanti che mette in contrazione anche la mascella. È molto allenante questo movimento e lo sentirai anche indietro il collo. Ricupera quando è necessario, non ti preoccupare, ricuperare fa sempre bene, però quando ti devi recuperare basta che ti porti la braccia dietro la nuca e cominci a massaggiare subito indietro, ok, proprio sotto il cranio, all'attaccatura della nuca e sentirai come ti aiuta a decontrare proprio la tensione che trovi accumulato nella zona del collo e della nuca. Ok, ritorniamo a fare il nostro naso labiali. Prendendo due mezzo luna, ok, eccoci qua, cioè spingiamo in su con le dita e cominciamo a soffiare in avanti, soffiamo in avanti e continuiamo a creare questa pressione che aiuta lo zigomo. Relax, ricuperi, ripeti. Questa è un'altra cosa che dobbiamo fare. È un vero e proprio allenamento, è come se stessi andando in palestra, ma anziché allenare i bicipiti e i glutei, alleniamo i muscoli della faccia. Soffia e prova con magari uno specchio, tenete uno specchio accanto, uno specchio che ti permette di controllare i progressi, così vedi che non stai aggrottando la fronte, non stai creando, diciamo, non strizzare gli occhi, stai provando di spionare tutta la faccia e tonificarla nello stesso momento. Adesso andiamo a fare il nostro sorriso forzato, utilizzando, partendo con i denti serrati. Apro e chiudo la bocca, proprio streccia la labbra, fai lavorare la labbra, però tenendo ovviamente la pelle al bordo della faccia, all'altezza dell'attaccatura all'orecchio, proprio in tensione, così per proprio tonificare tutti i nasolabiali e anche la bocca, perché anche la bocca sta lavorando. Continui a tirare, relax, ricuperi e poi la puoi fare anche senza coinvolgere le mani. Questa è un'altra opzione, così andiamo allungare, chiudere, allungare e chiudere, strecci, tiri, stiri, tonifichi e poi passiamo adesso all'ultima parte del nostro allenamento che sarà proprio un massaggio. Ok, con le nocchie, ho bisogno di avere un olio sulla faccia, un olio che io dico, io uso olio di rosa moschetta, possiamo usare olio a base di argan, usiamo qualcosa che permette le braccia e le mani a scivolare, ok? Uso la nocchia e proprio sto tracciando dal centro del mio naso, dal naso, altezza naso, sotto lo zigomo, lungo il collo. Questo è per drenare le vie lenfatiche. è molto, molto rilassante, a me piace farlo la sera, prima di andare a letto, me la faccio di fronte al televisore, mi metto, e ho proprio il mio olio sul mio, diciamo, tavolino di fronte al televisore, e mi massaggio e vedrai che ci sono dei posti o dei punti sulla faccia dove sentirai delle contratture. Adesso, sempre con le nocchia, attenzione sempre a anelli, così non ti graffi, spingiamo con le nocchia proprio verso alto per stirare la fronte, massaggiare la fronte, arrivando fino all'ovale, proprio dove l'attaccatura dei capelli. Noterete anche qui che ci sono tantissimi punti di contratture, di tensione muscolare e quello che stiamo provando è di rilassare le contratture muscolari. Stiamo provando di drenare la linfa, dreniamo la linfa, sgonfiamo la faccia e la linfa va da alto verso basso, i linfonodi che percorrono lungo il collo sotto la mascella verso il collo perché uno dice ma perché andiamo verso giù? Andiamo verso giù perché la linfa si scola verso giù. Adesso, con le nocchia, andiamo in su, leggermente più larghe, partendo dal centro, cominciamo a fare prima centro, spingiamo per almeno, circa dieci volte verso su, usando la nocchia e poi allarghiamo le mani poco a poco, continuiamo a fare la pressione verso alto e proprio per dare questo stiramento, la parola è giusta, ma è un massaggio che è molto sollevante perché possiamo portare tanta attenzione e quante volte aggrottiamo la fronte per pensare o giudicare o arrabbiare. Invece in questo modo possiamo distendere quei muscoli e fare una sorta di spianamento della fronte per essere sempre più freschi. Però ricordi sempre con un olio, spostate di nuovo le mani e vai sempre sulle tempie. E senza esagerare, usando un olio che ci permette le mani a scivolare, andiamo a fare proprio un movimento che dà sollievo, dà sollievo e aiuta a tonificare tutta la faccia. Adesso unisco le pollici, delicatamente traccio la zona sotto, cioè la borsa dell'occhio, che è proprio la zona sotto l'occhio, arrivo fino all'orecchio, scendo giù lungo il collo per drenare e per masseggiare e per spianare sempre con un olio, un olio che non mi fa strattonare la pelle ma mi fa scivolare a punto giusto, né troppo né troppo poco, le pollici lungo, proprio la zona sotto l'occhio fino al collo. Cambiamo dall'altro lato, due pollici che tracciano sotto l'occhio fino all'orecchio e scendo giù. Sempre va andando prima su e poi scendo giù con, non lo vedete, ma ho un olio sulla faccia che mi permette le mie mani a scivolare senza strattonare. Ancora, continuo così e sollevante, sollevante anche soltanto a guardarlo perché lo so quanto è piacevole questo movimento, mi piace tantissimo proprio per la zona, per gli occhi. Adesso, con l'enocchia, tracciate le sopracciglie e mentre lo state facendo il massaggio, guardate un po' in giù e tirate le sopracciglie in su. In questo modo, tracciando, stiamo aiutando a decontrare, massaggiare e aiutare anche gli occhi ad essere più aperti. Buon allenamento di oggi, vi voglio bene e vi aspetto sempre su Face Gym. Grazie a tutti.